Ciao, sono Ivan Lurgo e sono il vostro personal trainer. E io sono Giulia Calcaterra e sono qui per darvi delle pillole di fitness. Buongiorno a tutti, manca poco l'estate, iniziamo subito a lavorare bene gambe e glutei. Iniziamo da uno sumo squat, ci posizioniamo, gambe leggermente divaricate, punte verso l'esterno, solleviamo il braccio da terra e lo teniamo parallelo al terreno. Da questa posizione scendiamoci bene con le gambe, inspiriamo quando scendiamo e ispiriamo quando saliamo. 12 ripetizioni. 1, 2, 3, 4, addome bello contratto, mento in alto, 6. 7, ancora 8, forza, 9, 10, ancora 2, 11 e 12, perfetto! Secondo esercizio, facciamo degli affondi con balzo. Ci giriamo di lato, alziamo il ginocchio, affondo indietro, salgo, balzo. 1, 2, 3, 4, 5, giù bene con la ginocchia, 6, 7, ancora 8, 9, 10, 2 ancora, 11, 12, stop! Terzo esercizio, focus glutei. Eseguiamo dei donkey kick, ci mettiamo giù in quadrupedia, schiena dritta e partiamo. 1, 2, 12 ripetizioni. 3, 4, brava Giulia, fai vedere alle persone come rendere di marmo i glutei. 4, 4, ancora. L'ultima e stop!